Cettami la valigetta! Che cazzoli! Pezzoli! Nienti! Nienti! Viola, portami un buon caffè! E vedi di muoverti, eh? E a Toni una bella FUCA COLA! E poi ci guardiamo le ultime notizie! E poi ci guardiamo le ultime notizie! E poi ci guardiamo le ultime notizie! Notizia News In autostrada, vicino a un centro abitato, un camion ha perso posti, contenenti materiale radioattivo. Il guidatore è stato portato ad urgenza in ospedale per i controlli. E poi ci guardiamo le ultime notizie! E poi ci guardiamo le ultime notizie! E poi ci guardiamo le ultime notizie! When... Allie... Alessandra E poi ci guardiamo le ultime notizie! E poi ci guardiamo le ultime notizie! Impressione! Andiamo a tutti! Abastare il modo di doveva rendere! Uscaglione il Perfetto! Perfetto! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti